pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa domenica incontriamo un testo meraviglioso due miracoli di Gesù la risurrezione della figlia di Gairo e la guarigione dell'emorroissa si tratta di due miracoli che ci aiutano a riscoprire un punto fondamentale chi salva la nostra vita come far nostra la salvezza di Dio per mezzo della fede in Gesù andiamo al testo abbiamo Gesù che dopo essere sceso dalla barca viene attorniato da tanta gente e ad un certo punto arriva a Gairo uno dei capi della sinagoga che si getta ai suoi piedi e lo pregava con insistenza dicendogli la mia figlioletta agli estremi viene a imporle le mani perché sia salvata e viva Gairo è un padre che si rende conto che può dar tutto alla figlia tranne una cosa salvarla dalla morte Gairo inoltre in quanto capo della sinagoga rappresenta il popolo di Israele ha una figlia che muore a 12 anni 12 anni un giorno segnava l'ingresso nell'età adulta per le ragazze nella fase esponsale della vita questa ragazza muore senza giungere a pienezza senza aver incontrato lo sposo come a dire che il culto e la legge mosaica non possono salvare dare la vita solo Gesù Dio tra noi può farlo Gesù acconsente la richiesta del padre e si mette in cammino con lui ad un certo punto mentre la folla lo schiacciava a destra sinistra ecco una donna una donna tra le tante che nascosta cerca Gesù questa donna da 12 anni era affetta da emorragia non è a caso che ricorra nuovamente il numero 12 questa donna facente parte del popolo di Israele era esclusa dal culto dal rapporto con Dio perché era considerata impura aveva perdite di sangue e quindi secondo la legge non poteva accedere al contatto con Dio non poteva aver contatto con nessuno se non l'avrebbe reso impuro è una donna che perde sangue dunque che perde vita ed è una donna incurabile che ha speso tutto senza averne beneficio anzi peggiorando sempre questa donna in fondo rappresenta tutti tutti noi per la nostra condizione nativa siamo in cammino verso la morte la vita scorre inesorabile allo scorrere della vita la morte che avanza aggiungiamo la nostra ferita del peccato originale che ci inclina al male e in fondo ognuno aggiunga le sue ferite interiori non pensiamo soltanto alle ferite gravissime di maltrattamenti o abusi ma a fancanze d'amore incomprensioni quante persone ferite ad esempio non si sentono mai accettate messe da parte hanno problemi con l'autostima o problemi nel gestire la propria affettività nell'accettazione di sé del proprio corpo quanti sono segnati da ferite profonde e uno per quanto cerchi di risolverle con i mezzi umani anche importanti anche scientifici ci si rende conto che non bastano a salvare la propria vita solo l'amore di dio in noi salva solo l'amore crea questa donna aveva sentito parlare di gesù ecco dove inizia e può partire la guarigione per tanti aver qualcuno che gli parli di gesù qualcuno che testimoni ciò che il signore ha fatto nella storia e nella propria vita quanto è importante la testimonianza dei cristiani quanto è importante il nostro annuncio quanto è importante che la nostra esperienza di guarigione di salvezza di sentirci amati sia trasmessa agli altri san paolo dice la fede dipende dalla predicazione come potranno conoscere gesù se nessuno ne parla ci fu un ragazzo che morì giovane lascio una lettera ai genitori in questa lettera più o meno scrisse loro voi mi avete dato tutto cultura insegnamento vi siete presi cura di me in ogni mio bisogno ma perché non mi avete mai parlato di dio io muoio senza sapere a chi sto andando incontro senza sapere chi incontrerò dall'altra parte perché mi avete privato del tesoro più prezioso ricordiamolo bene come potranno conoscere gesù se nessuno ne parla e lo testimonia questa donna va alle spalle di gesù e nel nascondimento gli tocca il mantello pensando se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata e subito non appena lo toccò le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male niente di magico miei cari come a dirci se entri in contatto con il fuoco ti bruci se entri in contatto con l'acqua ti bagni se entri in contatto con dio per mezzo della fede sei salvato vedete questa donna tocca cristo con fede lo tocca e si ferma la perdita di sangue cioè smette di perdere vita la vita non scorre più verso la morte uno potrebbe dire beata lei ha toccato il mantello di gesù potessi farlo anch'io ma noi siamo più fortunati di lei noi non solo possiamo toccare il mantello di cristo ma possiamo toccare lui anzi per mezzo del battesimo siamo immersi in lui per mezzo dell'eucaristia tocchiamo lui ci nutriamo di lui il punto è con quanta fede lo tocchiamo sant'agostino diceva tocca cristo chi crede in lui noi abbiamo un tesoro prezioso il signore è risorto in mezzo a noi ma il punto è con quanta fede lo tocco gesù avvertì la potenza che era uscita da lui si voltò alla folle di sé chi ha toccato il mantello e dicepoli lo deridevano ma come tutti si accalcano attorno a te chi ti tocca a destra e sinistra e vai chiedendo chi ha toccato il mantello ma gesù sa che qualcuno lo ha davvero toccato come a dire vedete che c'è modo e modo di entrare in contatto con cristo io posso essere folla che c'è tanto per o come questa donna toccarlo con fede cercarlo con tutto il cuore gesù continua a cercare chi lo abbia toccato e quasi costringe la donna al venire alla luce a gesù non basta che questa donna lo abbia toccato furtivamente vuole stare faccia a faccia con lei cioè vuole entrare in relazione con lei e stare in relazione con lei a gesù non basta che questa donna sia guarita vuole che sia salvata qui c'è un punto importante perché davvero la nostra vita sia salvata perché possiamo entrare in una vita nuova e crescere in una vita nuova non basta toccare sporadicamente cristo la cosa più bella è entrare in relazione con lui il punto non è solo guarire o risolvere un problema il punto è entrare in comunione con colui che è la fonte della salvezza che è la fonte della vita a che mi servirebbe guarire da una malattia punto la morte la incontrerò di nuovo a che mi serve aver superato solo un problema una tentazione ne arriveranno altre ciò che conta è essere in relazione con la fonte della vita non fermarci ai doni ma risalire al donatore la donna impaurita e tremante sapendo ciò che l'era accaduto venne gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità perché era impaurita e tremante perché aveva trasgredito la legge del suo tempo si aspettava un sonoro rimprovero non è così dio è buono dio è generoso il signore ci ama profondamente non importa che chi lo cerca magari sia lontano da lui non abbia frequentato praticato a volte le persone dicono ma io lo cerco solo nel momento del bisogno e dio è felice che almeno lì lo si cerchi e lui è generoso la cosa però più bella è vivere in relazione in comunione con lui perché la vita sia davvero salvata se nel bisogno lo cerchi e perché sai che solo dio ti può salvare dunque non ti staccare più continua a camminare con lui perché la tua vita possa essere rinnovata e la donna venne davanti a gesù e gli disse tutta la verità quello che fino a ieri erano le sue ferite che pensava la tenessero lontana da dio scopre che proprio quelli sono i luoghi della sua misericordia della sua cura ciò che prima era la sua vergogna diventa oggetto della sua testimonianza e gesù le risponde figlia la tua fede ti ha salvata vai in pace e si guarita dal tuo male questa donna pensava di essere strane a dio si sente chiamare figlia e si sente addirittura dire è grazie a te che la salvezza è potuta entrare in te perché perché hai avuto fede in me la tua fede ti ha salvata sant'agostino diceva colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te c'è una parte che spetta a noi nel rapporto con dio ed è la fede in lui il signore è la salvezza è fonte di ogni grazia ma questa salvezza passa e opera per mezzo della nostra fede ora già ero era lì presente questo episodio sicuramente lo avrà aiutato nella fede in gesù ma mentre gesù parlava arrivano a dirgli tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro ormai non c'è più nulla da fare la morte è arrivata gesù udito questo disse al capo della sinagoga non temere continua solo ad avere fede quando si affronta la morte il lutto cosa conta continuare a restare aggrappati al signore e lui è il signore della vita giairo continua a credere continua a restare in contatto con gesù continua a camminare con lui e cosa succede giunsero a casa del capo della sinagoga e vide trambusto gente che piangeva e urlava gesù entrato disse loro perché fate tanto strepito e piangete la bambina non è morta ma dorme ecco il volto della morte che il signore svela non è la fine di tutto ma un addormentarsi a questa vita e un risvegliarsi in lui il signore viene a liberarci dalla paura della morte perché nella fede in lui possiamo viverla per ciò che è il pieno e definitivo incontro con l'amore con colui che ci attende e lui viene a svegliarci allora la gente lo derideva gesù caccia fuori tutti prese con sé il padre la madre i suoi discepoli e dentro dove era la bambina prese la mano della bambina un gesto affettuoso e quasi responsale e le disse talità cum fanciulla io ti dico alzati è il verbo della risurrezione gesù risuscita questa bambina e la affidò ai suoi genitori e marco specifica aveva 12 anni questa bambina in cristo incontra lo sposo tanto atteso dal popolo di israele dio venuto in mezzo a noi a salvarci dal male dalla morte e a darci vita vita eterna vita nuova chiediamo dunque al signore che questo brano meraviglioso possa ravvivare la nostra fede in lui e fare esperienza della sua potenza in noi capace di salvare e sanare profondamente la nostra vita che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti